ciao a tutti lui Emanuele e lei e Simona siamo di infinito il planetario di Torino museo dell'astronomia e dello spazio per futuro remoto navigheremo nello spazio attorno alla terra grazie al planetario digitale e dimostreremo come la situazione lassù è veramente affollata satelliti per la ricerca per le telecomunicazioni gps insomma chi più ne ha più ne lanci gianni rodari scriveva che il cielo è di tutti ma è davvero ancora così beh la risposta a futuro remoto vi aspettiamo